Non riuscite a pagare l'affitto, temete lo sfratto. Il problema è tutto privato, del singolo cittadino che se la dovrà vedere con il proprietario della casa. L'emergenza abitativa si affronterà così, con qualche incontro in prefettura nei casi più complicati, dai quali però il comitato antisfratto viene escluso e alle famiglie viene prospettato un prendere o lasciare senza alternative. Lo scenario che emerge dall'ultimo comunicato del comitato di Via Mantova, che ha sede nel centro sociale Dordoni, parla infatti di esclusione e sembra descrivere un cerchio che si chiude, preparando un avvenire in cui gli investimenti privati per l'housing sociale e i tagli dei finanziamenti statali ai comuni faranno il resto. Il diritto alla casa sarà riconosciuto solo a chi avrà un reddito sufficiente, mentre l'emergenza sociale legata all'amorosità incolpevole e al lavoro che non basta più, in vari casi, a pagare il costo della vita, verrà confinata in una contrattazione privata, in una città dove le famiglie che chiedono una casa comunale sono circa 700. In comune la giunta Galimberti da una parte si è ripresa la gestione di mille appartamenti pubblici affidata all'Aler, dall'altra ha deciso di chiudere una delle due sedi dei centri sociali cremonesi, mentre in prefettura i tavoli tecnici da mesi si riuniscono senza i componenti del comitato, che pure ha già rappresentato le famiglie organizzando i picchetti antisfratto. Quest'anno è successo tre volte. Le famiglie vengono convocate per incontri in corso Vittorio Emanuele II con i soli padroni di casa, i loro avvocati e un funzionario dei servizi sociali, oltre alla questura. A chi rischia di rimanere senza un tetto in questi tavoli, da quel che riferisce il comitato, vengono prospettate soluzioni già decise, senza alternative. A questo punto diverse famiglie hanno fatto sapere che non si presenteranno in prefettura senza esponenti del comitato negli incontri fissati per domani. Rischia di spezzarsi così il rapporto di fiducia che si era creato tra cittadini e istituzioni. Per la prefettura l'emergenza abitativa quest'anno è comunque stabile. In comune l'assessore alla casa Andrea Virgilio sta potenziando gli interventi per le manutenzioni degli alloggi, con i finanziamenti della regione e del governo. L'obiettivo del municipio è evitare l'automatismo tra lo sfratto e l'assegnazione della casa popolare e rendere possibili percorsi verso l'autonomia economica, se la crisi economica lo consente. Grazie. 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 Grazie.